Marsciano abbraccia un nuovo cittadino. Alla nuova sala Gramsci della Biblioteca Comunale, il sindaco Alfio Todini ha conferito la cittadinanza onoraria a Luca Panichi, ex ciclista ora costretto sulla sedia a rotelle. Luca non ha dimenticato i valori e le emozioni dello sport e continua a sfornare prestazioni incredibili, ultima delle quali la scalata del mitico passo Stelvio, avvenuta dal versante Lombardo in occasione della penultima tappa del Giro d'Italia 2012. Dal 22 giugno Luca Panichi è cittadino onorario di Marsciano. Sindaco Todini, come mai questa idea e perché? Ma perché dopo l'ultima impresa compiuta da Luca con la scalata dello Stelvio in occasione del Giro d'Italia ci è sembrato che questo fosse un modo per celebrare il suo esempio non solo per l'impresa sportiva compiuta ma per i tanti significati che essa ha. Però noi abbiamo bisogno che lo spirito di Luca si diffonda e si propaghi. Noi abbiamo bisogno al tempo stesso di una comunità che sia molto esigente ma abbiamo anche bisogno di una comunità che si senta protagonista e anche Luca stasera ci ha dato una testimonianza di come l'impresa sportiva sia solo la manifestazione esteriore di un atteggiamento e di un approccio alle cose della vita che associa l'entusiasmo per la propria passione privata alla convinzione e alla volontà di dare un contributo alla qualità della vita di una comunità e di una collettività ed in questo senso insomma noi lo accogliamo pronti appunto a ricevere i suoi stimoli che siamo certi non mancheranno. Luca Panichi, la prima domanda mi frutta da molto per la testa ma è un pazzo o un filosofo che ha dato un senso alla vita? Un ciclista che attraverso la sua esperienza di vita, attraverso il suo ambiente di crescita familiare, di amicizia, attraverso i suoi studi ha pensato questa cosa non pensandola ma facendola maturare dentro di me in maniera molto naturale proprio come degna prosecuzione di quello che ho vissuto precedentemente. Indubbiamente ho avuto dei momenti in cui chiaramente c'erano delle paure, delle ansie però avendo subito un intervento chirurgico solo dopo nove mesi rispetto all'incidente perché c'era una situazione di incertezza, quella è stata la fase in cui chiaramente la paura era tanta. Poi indubbiamente in quel contesto lì sono emersi poi quelle risorse che mi hanno permesso di affrontare anche questi momenti di dubbio e di incertezza con la determinazione per guardare avanti e per migliorarsi. Alla cerimonia hanno partecipato anche Carlo Roscini, presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana di Ciclismo e Roberto Bertini, assessore allo sport per la provincia di Perugia. Gradita sorpresa è stato l'intervento telefonico di Monia Baccaille, ciclista marcianese punta di diamante della Nazionale Italiana. Un incontro tra due veri campioni di sport. Ciao, grazie e a presto. Un bacione da parte di tutti. Ciao, ciao, ciao. Dopo lo Stelvio, qual è il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento sarà esattamente fra un mese e è un appuntamento per me molto importante perché sarà la scalata della Madonna del Ghisallo all'interno del Memory al Casartelli, una figura che mi è rimasta nel cuore. Vuoi perché è morto esattamente un anno dopo il mio incidente? Vuoi proprio perché in questo legame, in questa comunanza di passione e di protagonismo nel ciclismo mi permette di onorarlo al meglio nella memoria, vivendola nelle mie possibilità ed anche con la determinazione per poter esprimere comunque un messaggio positivo nel fare sport. I marcianesi sono sicuramente strafelici di averti con cittadino. Il sindaco non lo so se sarà contento perché per quello che vediamo e sentiamo non sarai un cittadino facile. Beh, credo che questo sarà uno stimolo reciproco. Io ringrazio di nuovo tutta l'amministrazione comunale e i cittadini di Marciano perché con questo conferimento mi obbligano, fra virgolette, ma come dicevo anche nella cerimonia in maniera gioviale, in maniera serena, a seguire ancora più da vicino quelle che sono le dinamiche sociopolitiche del territorio che sono anche questa una mia passione di sempre.